La cosa che volevo dire a tutti è che sono molto contenta di essere qui, anche se in questo formato un po' freddino a distanza, perché sono molto affezionata a questi corsi e abbiamo visto nascere questi di letteratura italiana per la normale Lincia e per le scuole, li abbiamo visti nascere praticamente, io e Ale e anche Andrea ha partecipato più volte, quindi essere qui adesso è proprio un piacere. Ed essere qui a conclusione di questo corso e poi presentando il professor Torre è veramente ancora più un piacere, perché con Andrea Torre siamo, prima di tutto è un caro amico e oltre questo è un collega, abbiamo lavorato insieme a lungo nel laboratorio di Lina Bolzoni, diretto da Lina Bolzoni, qui il laboratorio della scuola normale, che era il centro di elaborazione informatica dei testi e immagini nella tradizione letteraria e con Andrea abbiamo veramente lavorato gomito a gomito, studiato tante cose insieme, ci siamo confrontati, ho potuto apprezzare davvero quello che poi si può apprezzare anche nei suoi testi, insomma ascoltando le sue lezioni, che è un grande accumulo, una grande sensibilità di fronte ai testi, di fronte alle immagini e anche una grande facilità di esposizione, pacatezza direi, che è assolutamente ammirevole e penso che sia un po' nelle sue corde e nella sua cifra stilistica, però credo che sia anche una cosa a cui Lina Bolzoni, e questo non me ne vorrà Andrea, si attribuisca anche un po' a lei questo tuo merito, ci ha insegnato tanto, insomma appunto questo l'accume, l'attenzione, la sensibilità, ma anche la semplicità nel senso più bello del termine, insomma più nobile del termine nell'esposizione e nel racconto, nella narrazione della nostra ricerca. E queste cose le ho potute apprezzare tantissimo, appunto lavorando con Andrea, si apprezzano tantissimo nei suoi testi, secondo me. Io non li ho letti tutti, perché la devo ammettere, non sono riuscita a stargli dietro alla sua produzione scientifica, però insomma molto a letto sicuramente, Andrea ha lavorato, lavora su Petrarca, di cui vi parlerò oggi, ma ha spaziato fino alla letteratura contemporanea, anche con incursioni nella letteratura postcoloniale, passando attraverso Lodoico Dolce, i volgarizzamenti delle metamorfosi di Ovidio, l'Adone di Marino, l'Orlando Furioso, l'arte della memoria, in senso trasversale, il rapporto tra parole e immagini nel Rinascimento, insomma la sua produzione, i suoi ambiti di ricerca sono tanti, Petrarca è uno dei suoi cavalli di battaglia, quindi è veramente bello poterlo ascoltare oggi e parlare di questo, delle sue pubblicazioni, davvero è difficile perché sono molte le monografie, moltissimi i contributi saggi, eccetera. Possiamo citare Petrarcheschi, Segni di memoria del 2007, Vedere Versi, un manoscritto di emblemi Petrarcheschi del 2012, arrivare poi fino, credo che sia la tua ultima fatica, andremo magari a una stupidaggine, scritture ferite, innesti, doppiaggi e correzioni nella letteratura rinascimentale che è del 2019, però correggimi se sono rimasta indietro. Insomma, oggi ci parla di Petrarche e le immagini, Petrarca in immagini, e sono veramente contenta di ascoltarlo parlare, di ascoltarlo parlare in questo contesto, e quindi gli cedo volentieri la parola. Grazie Andrea. Grazie a te Serena per la presentazione, per le bellissime parole, cercherò soltanto di essere, diciamo a dire, minimamente degno della presentazione così generosa che hai fatto e che, insomma, per quanto riguarda anche ciò che dicevi a proposito del Magistero di Lina, insomma, mi trova ovviamente pienamente d'accordo, ecco. Dunque, io volevo con l'incontro odierno provare ad aggiungere un altro tassello nel percorso di casi esemplari sul rapporto tra dialogico, tra letteratura e altre forme artistiche che avete appunto già avuto modo di osservare, di discutere nei precedenti incontri. E nello specifico vorrei oggi affrontare con voi quello che Gianfranco Contini in un convegno del 1974 ha definito un capitolo tra i più potentemente attraenti nel libro della cultura occidentale, ossia quello che è la questione, diciamo, delle forme e delle occasioni di incontro con la cultura visiva che si possono riscontrare sia nell'esperienza intellettuale di Petrarca sia nella tradizione che ha conosciuto la sua produzione letteraria. E quindi cercherò, nell'oretta, insomma, che seguirà e nel modo più equo possibile di dividere il mio discorso esattamente come il titolo dapprima in una presentazione delle testimonianze dell'interesse che Petrarca ha riservato per la cultura visiva e dall'altro in un'analisi di alcuni tentativi di visualizzazione delle sue opere, tanto volgari quanto latine, che si sono succedute nel tempo nei manoscritti delle sue opere, nelle stampe, ma anche in differenti forme, in differenti supporti artistici. Allora, partendo dal primo punto, cioè Petrarca e le arti, si può innanzitutto dire che esso costituisce, a mio avviso, una delle varie circostanze in cui Petrarca ci dà conferma di uno dei suoi più efficaci, a mio avviso, autoritratti, quello che troviamo in un passaggio dei Rerum Memorandarum Libri, nel primo libro, capitolo 19, dedicato a Plinio il Vecchio, in cui Petrarca si autorappresenta come prospetticamente disteso, lui dice, in confinio duorum popolorum, quindi sul confine di due popoli. Si autorappresenta di fatto come una sorta di Giano Bifronte diviso tra il passato e il presente, tra il progetto umanistico di recuperare il passato alla memoria collettiva e dall'altra parte la sua, direi, costante, quasi vorace curiosità verso le novità di una contemporaneità in sempre vorticosa trasformazione. Questo dissidio tra passato e presente caratterizza anche, possiamo dire, questo è essere in confinio duorum popolorum, caratterizza anche l'esperienza petroarchesca di fruitore delle cose d'arte, fruitore della cultura visiva e si articola in varie dicotomie che interessano appunto la sua esperienza con l'arte visiva, più in generale anche la sua esperienza con il concetto di immagine. Ad esempio il pregiudizio filosofico contro le immagini, quale copie di secondo grado della bellezza ideale e proprio di filosofi molto cari a Petrarca come Platone e Agostino, non attenuò in lui l'ossessione per una costante iconizzazione poetica dell'oggetto del proprio desiderio, cioè l'aura. Così come non ne ostacolò la costante ricerca di opere d'arte con uno spirito di collezionista d'arte antelitteram e non lo trattenne neppure dal cimentarsi nella pratica del disegno come testimoniano questi due marginali affigurati che si trovano disegni che si trovano in margine alla sua coppia personale della Naturalis Historia di Plinio, conservata ora a Parigi, in cui troviamo due disegni, di fatto due disegni di due paesaggi, quello di destra che dovrebbe raffigurare un'architettura romana e quello di sinistra, diciamo più famoso, anche se la sua attribuzione è ancora oggetto di discussione e si riferisce ad una famosa immagine della transalpina solitudo di Petrarca, cioè dell'immagine di Valchiusa. Questa è l'attribuzione, diciamo, la paternità di questo disegno Petrarca la condivide col suo grande discepolo Boccaccio a cui diede in prestito proprio il codice parigino latino 6802 e Boccaccio a sua volta lo postillò tanto verbalmente con delle postille testuali quanto anche con tanti piccoli disegni, quindi con postille visive. Quindi anche questa curiosa immagine relativa al paesaggio valchiusiano diciamo che è in dubbio se attribuirla alla mano più da dilettante di Petrarca oppure alla mano più, diciamo, anche artisticamente attrezzata di Boccaccio. Analogamente, un'altra dicotomia che caratterizza l'esperienza di Petrarca con le arti riguarda lo statuto sociale delle arti e degli artisti poiché la distinzione gerarchica medievali tra arti liberali e arti meccaniche con tutte le sue implicazioni sociali non impedì comunque a Petrarca di celebrare le opere di Giotto, di freggiarsi della frequentazione di uno dei maggiori pittori dell'epoca, cioè di Simone Martini, e di includere anche statue, pitture, architetture nella sua più generale riflessione sulla cultura antica. tale riflessione trova forse la più articolata espressione in un'opera latina, il De Remedis Utriusque Fortune, che paradossalmente è forse anche la più medievale tra le opere di Petrarca, dal momento che si presenta come un'enciclopedica psicomachia di matrice cristiano-stoica, in cui, composta da più di 250 dialoghi, in cui si mette in scena proprio una sorta di conflitto interiore di psicomachia tra la facoltà razionale dell'animo umano, una personificazione della ragione, della razio, e le quattro passioni, le quattro principali passioni stoiche, che perturbano l'animo umano, tanto nei momenti di sorte propizia, quanto nei momenti della sorte avversa, dell'avversità. Le quattro passioni perturbanti sono la speranza, la gioia, il dolore e il timore. Ebbene, nella prima parte del De Remedis, quello che tratta le varie occasioni relative alla sorte positiva, abbiamo una sequenza di sei dialoghi, che vanno dal dialogo 37 al dialogo 42, in cui Petrarca dispiega quella che è a tutti gli effetti la più lunga discussione sull'arte che si ritrovi nel Trecento umanistico. Una discussione che consolida più di ogni altra le basi fondamentali della successiva discussione umanistica sui rapporti tra le arti e in primo luogo sul paragone tra le due arti principali, la pittura e la scultura. In questi sei dialoghi la voce della facoltà razionale, della razio, attacca costantemente il suo interlocutore di turno, che in questo caso è il Gaudium, cioè la gioia, la quale continua a lodare smodatamente i manufatti artistici e esprimere il desiderio di acquisirli, di ottenerli, dando quindi prova di avarizia e di vanagloria. Il giudizio della razio rispetto a tale comportamento del Gaudium è ribadito sinteticamente in prima persona da Petrarca in un'altra opera, cioè in un passaggio di una sua lettera familiare, la nona del nono libro, in cui così si esprime Petrarca di quanto poco valore sono quelle cose che sembrano di gran pregio e che il volgo ammira. L'oro, l'argento, i monili, gli annelli, le armille, le immagini bassorilievi, i basi di Corinto, le fuggite gemme, le perle perfettamente rotonde, il candido marmo, l'avorio scolpito, i quadri, le statue vive, espiranti, la splendida porpora e tutte quelle altre cose di tal genere, fecce immondizia della terra o fumoso vanto di artefici. Ora, con questa tonalità da contentus mundi medievale, Petrarca passa in rassegna proprio tutte le categorie artistiche che poi saranno oggetto dei sei dialoghi del Dere Medis nella coesa sequenza in materia artistica. I gioielli, capitolo 37, le coppe e i sigilli di gemme, capitoli 38 e 39, le tavole dipinte, capitolo 40, le statue, capitolo 41, e i vasi corinzi, capitolo 42. In tutti questi sei dialoghi e a proposito di queste esperienze e oggetti d'arte, il bersaglio della censura della razio è duplice, diciamo, e ci dà una perfetta espressione di quello che è l'approccio moralistico petrarchesco all'oggetto artistico e che inquadra tale e tale approccio in una più generale postura etica che vedremo avrà delle implicazioni anche per altri aspetti del pensiero petrarchesco. Se da una parte la sfolgorante bellezza delle gemme trattata nel capitolo 37, vediamo che si fonda in realtà su un fallace giudizio di preziosità che in realtà non è imputabile all'ingegno dell'artefice, ma soltanto ad una materia prima il cui valore dipende dalle leggi della domanda e dell'offerta e quindi è un bene falso, dall'altra parte la bramosia di vasi corinzi non appare generata da una intrinseca e reale qualità dell'oggetto artistico, quanto piuttosto da una sorta, da ciò che Petrarca definisce un morbo dell'animo. Tale bramosia diviene quindi il sintomo di una consumistica volontà di possesso che assume i contorni di una patologica compulsione all'acquisto, potremmo dire anche convocando terminologie a noi più vicine. Tale bramosia è il sintomo di una strumentale incompensazione attraverso l'acquisizione vorace di oggetti artistici di una più intima e costitutiva mancanza dell'animo di chi si contorna di tali beni. Tra il desiderio quindi di possesso, quale ostentazione di uno status sociale e senza sapere che in realtà tale possesso si fonda su un falso bene e quella che appunto chiamavo una patologica compulsione alimentata da una sorta di horror vacui, vi è però, questo è un ulteriore indizio di quella dicotomia a cui facevo riferimento all'inizio, vi è però anche in Petrarca il perturbante piacere indotto che le opere d'arte producono, un perturbante piacere indotto soprattutto dalla natura mimetica dell'opera d'arte figurativa. Il fascino di una illusiva riproduzione della realtà che risulta ancora più persuasivo e tradiante in chi è in grado di riconoscere la perizia generante tale illusione. vedete nei due passaggi che ho riportato nella slide fanno parte dei due capitoli più importanti della sequenza del Deremedis a cui facevo riferimento e forse anche la sezione che nel tempo avrà le implicazioni più modellizzanti intervenendo, fungendo di fatto da sostanziale fonte per molte delle successive discussioni, ad esempio sul paragone tra le arti, proprio perché tale paragone tra pittura e scultura è l'oggetto principale di questi due capitoli ricchi anche di informazioni e di una terminologia tecnica che Petrarca desume soprattutto dai libri dal 33esimo al 37esimo della Naturalis Historia di Plinio proprio compulsati nel manoscritto che abbiamo visto prima da una parte Petrarca riconosce che pittura e scultura derivano entrambe dal disegno ma differiscono per la materia impiegata e proprio nella fragilità delle tele si riconosce il principale motivo della mancata sopravvivenza delle opere figurative antiche e di conseguenza, dice Petrarca anche un po' malignamente l'errata convinzione da parte degli artisti dell'età moderna di essere inventori della pittura dall'altra, nel dialogo dedicato alle statue si afferma invece la superiorità della scultura sulla pittura in relazione ovviamente alla tridimensionalità dell'oggetto artistico che incrementa l'effetto di reale ma queste riflessioni su aspetti tecnici su questioni più esplicitamente estetiche non sono l'unico aspetto che emerge dai testi che compongono questa sequenza del... scusate mi riuscite a seguire? abbiamo perso Andrea, abbiamo perso per un attimo la voce la sentivamo però adesso sì, adesso ti risentiamo ok è riuscita a vedere anche il powerpoint, sì? sì, sì sì, sì, è quello a posto grazie no, prego dicevo insieme a considerazioni di carattere estetico sono presenti anche sempre riflessioni di carattere etico questo chiaramente per giustificare appieno anche la presenza di questi... della trattazione di tali temi all'interno di un'opera che come io ho detto all'inizio proprio ad una riflessione etico-moralistica è principalmente interessata e infatti in quasi tutti i capitoli della sequenza la ragione, la razio corregge costantemente quello che sono i principali vizi del Gaudium quindi la superbia e la valizia e implicitamente legittima la come dire l'esperienza artistica prospettando una funzionalità strumentale a quello che è il manufatto pittorico e plastico l'effimera bellezza materiale ha infatti come possiamo vedere nel passaggio del capitolo 37 il potere di suscitare negli individui una tensione verso l'eterna bellezza spirituale della virtù divina e quindi in grado di facendo in modo quindi che l'individuo sia in grado di distogliere lo sguardo dalle creazioni terrene e di ricondurlo alla contemplazione del creatore tema che è chiave appunto della riflessione petrarchesca e del dissidio tra dimensione etica e dimensione estetica all'interno della sua esperienza intellettuale e della sua produzione letteraria non a caso è proprio l'oggetto uno degli oggetti polemici affrontati in quella sorta di inquisizione interiore che è il che è il secretum anche nell'esperienza estetica infatti si tratta di sanare quella perversione dell'ordine corretto che Augustinus cioè colui che nel dialogo del secreto di fatto svolge la stessa funzione che la razza svolgeva la stessa funzione dialettica che la razza svolgeva nel vero e medis perversione dell'ordine corretto che Agostino imputa a Francesco nel terzo libro del secretum accusandolo di amare Dio in ragione dell'immagine di Laura quindi amare Dio quale artefice dell'amata piuttosto che amare Dio attraverso l'immagine di Laura cioè amare Dio in sé per sé al massimo grazie quella epifania della bellezza suprema in terra che è Laura e ciò fa pensare quindi che le indicazioni della razio per una virtuosa fruizione dell'arte interessino anche lo stesso Petrarca cultore e collezionista che quindi se da una parte nel suo coté moralista occupa il ruolo dell'Agostino del secretum o della razio del dere medis dall'altro è un po' Franciscus ad esempio quando commissiona a Simone Martini un ritratto di Laura che gli consentisse di avere sempre davanti agli occhi l'oggetto del proprio desiderio e dall'altro è anche un po' simile al Gaudium del dere medis quando nelle sue lettere in numerose lettere informa diciamo i suoi interlocutori con profondo compiacimento tutti gli acquisti in materia appunto di dipinti sculture monumenti architetture e monete tutte le opere d'arte che lui ha visto addirittura che si è potuto assicurare Petrarca infatti pare generalmente ben conscio del carattere spesso eccessivo della sua passione dell'arte e allora anche ad esempio nelle sue scritture epistolari è sempre pronto a collocare quello che è l'istintiva ammirazione riservata ad alcune opere quindi un atteggiamento simile al Gaudium in un più razionale contesto cioè cercando sempre di trovare una funzione a tali oggetti artistici ad esempio quando si parla di monumenti pubblici o di opere di fruizione pubblica costante è la loro interpretazione come dispositivi di una sorta di memoria collettiva cioè l'oggetto artistico viene riconosciuta una funzione memoriale memoriale viene riconosciuto come una sorta di identitario aiuto di memoria della illustre storia culturale politica di un determinato luogo o di una determinata comunità ad esempio alcune esemplificazioni in tal senso sono si trovano ad esempio nella senile nella prima senile del quinto libro in cui vi è un passaggio dedicato alla famosa statua equestre del Marco Aurelio il cosiddetto regisole a Pavia altrettanto interessante sono i riferimenti al perduto ciclo napoletano di Affreschi realizzato da Giotto nella cappella palatina di Castelnuovo a Napoli di cui Petrarca che vengono ricordati da Petrarca in un passaggio del suo itinerario di Sepulcrum Christi un trattatello che Petrarca aveva composto per un suo amico che doveva andare a compiere il pellegrinaggio in Terra Santa e per il quale lui crea una vera e propria guida di viaggio un Bedecker che come dire sottolinea di ogni tappa del viaggio da Genova fino in Terra Santa i luoghi della terraferma degni di essere oggetto di una visita di un'osservazione e molto spesso ci dà testimonianza anche di quelle opere artistiche architettoniche che fungono come dire da genius loci da elemento artistico caratterizzante quello specifico luogo un'opera d'arte a cui è possibile associare la memoria di quel luogo un altro esempio è quello relativo ai cavalli di San Marco a Venezia che Petrarca descrive in un passaggio della terza senile del quarto libro in cui e di cui Petrarca ci offre una descrizione che risponde un po' a tutti i crismi di fatto della scrittura ecfrastica del registro narrativo volto a descrivere delle opere artistiche qui nel descrivere i cavalli che quasi nitriscono e scalpitano verso altri cavalli vivi da una parte immediata memoria del mito di Pigmalione e più in generale del motivo dell'immagine spirante già virgiliana e ovidiana che è uno dei elementi attraverso cui proprio si cerca di evidenziare il naturalismo illusivo dell'opera d'arte e una delle modalità attraverso cui la parola letteraria in realtà autolegittima se stessa e la propria superiorità rispetto all'opera artistica perché lei per prima incrementa tale naturalismo illusivo del manufatto artistico a questo topo sectrastico Petrarca ricorre spesso nelle sue descrizioni di opere d'arte e soprattutto in alcuni casi per sottolineare il potenziale dell'icona nel commuovere gli animi dei suoi osservatori e nel indurli quasi a immedesimarsi con essa e qui un altro elemento ecco insieme a quello che vi ricordavo prima relativo alla dimensione di identitario e di un luogo svolto dall'opera d'arte ecco un altro un'altra funzione su cui spesso che spesso Petrarca affida alle opere artistiche è proprio quella di dell'icona che diviene exemplum che quindi spinge gli osservatori ad una coinvolta emulazione con il soggetto rappresentato in essa sia esso sacro o profano ad esempio come il ritratto di Sant'Ambrogio che ritratto che si trovava all'epoca di Petrarca proprio davanti alla basilica omonima a Milano vicino alla quale Petrarca per diversi anni aveva una casa ed è vissuto Sant'Ambrogio contemplato quindi costantemente potremmo dire quasi quotidianamente da Petrarca che con profonda commozione riconosceva in lui un'immagine viva ispirante un'immagine in cui mancava solo la voce per credere che di aver davanti Ambrogio redivivo oppure l'immagine di Cesare Augusto come compare in tante monete come ad esempio compariva in alcune monete che Petrarca inviò insieme ad una sua lettera all'imperatore dell'epoca cioè Carlo V una lettera anche una delle tante lettere anche abbastanza dure con cui Petrarca cercava di rendere l'imperatore sensibile ai fatti italiani e in cui in questo tentativo di sensibilizzazione gli invia anche delle monete con l'immagine degli imperatori antichi con l'effigie di Cesare Augusto vivo e spirante dicendogli o Cesare quelli ai quali tu ti sei succeduto ecco quelli che devi invitare quindi proponendo proponendo di che invitando ecco invitando l'imperatore a rispecchiarsi nell'effigie e quindi riportando alla memoria la statura morale del personaggio effigiato del personaggio lì rappresentato talora è lo stesso Petrarca che si fa effigiare e diviene in un certo senso si offre quasi come icona a osservatori che vorrebbero immedesimarsi in lui ad esempio ciò che lui ci racconta nella sesta senile del primo libro ricordando la grande passione dell'amico che l'amico Pandolfo Malatesta aveva per lui Pandolfo Malatesta che desideroso di mosso dalla fama di Petrarca e desideroso di dare un volto alla figura di Petrarca commissionò un pittore di realizzare un ritratto del poeta però come vedete dalla citazione l'unico effetto prodotto da questo feticcio fu soltanto quello di incrementare il desiderio da parte del suo possessore di vedere il reale soggetto di cui lui ha soltanto una riproduzione parziale quindi nonostante l'infermità nonostante la vecchiaia si fece portare alla presenza di Petrarca non soddisfatto di questo incontro fece fare ad un nuovo pittore un nuovo ritratto perché nel frattempo era passato del tempo e l'aspetto di Petrarca era mutato da quello come dire fissato nell'icona precedente e quindi chiede ad uno dei migliori pittori del suo tempo di crearne un altro diciamo un ritratto aggiornato costante come potete vedere è anche il motivo negli interventi petrarcheschi sull'arte è costante il motivo nel confronto con i grandi e mitici artisti dell'antichità Zeusio Protogene parrasio o a pelle motivo che lui sviluppa anche forse in quello che è la diciamo una delle due più famose testimonianze del dell'interesse di Petrarca per l'arte per l'arte figurativa in particolar modo due testimonianze che convocano entrambe un'unica figura di artista cioè quella di Simone Martini uno è il litico di seminari scusate il litico di sonetti 77 78 del canzoniere dedicati al cosiddetto ritratto di Laura realizzato da Simone Martini l'altro è l'allegorica antiporta mignata da Simone Martini per il manoscritto delle opere di Virgilio posseduto da Petrarca il cosiddetto Virgilio Ambrosiano perché è tuttora conservato alla Biblioteca Ambrosiana di Milano si tratta di testimonianze entrambe diciamo tanto quella figurativa quanto quella testuale di testimonianze rilevanti per capire come stesse cambiando alla fine del XIV secolo lo status sociale degli artisti di cui figure ruoli e mestieri cominciavano ad abbandonare la connotazione artigianale appunto da meccanico per acquisire invece una riconosciuta fisionomia intellettuale della come dire della familiare di Petrarca con l'artista senese è testimonianza anche quel come dire l'affettuosa glossa che lui pone sempre che Petrarca pone sempre a margine della naturalis del suo codice della naturalis storia Simoni nostro che fa il paio con il mio Simon che trovate al quinto verso del del sonetto 77 proprio la dimostrazione dell'affetto che legava i due artisti il affetto basato sulla stima reciproca e nel caso del sonetto 77 della grande stima riservata da Petrarca per le capacità artistiche di Simone oggetto di questo famoso sonetto appunto il cosiddetto ritratto di Laura un ritratto di Laura che chiaramente data l'eccellenza estrema dell'oggetto del soggetto del ritratto cioè l'amata del poeta non può che essere il prodotto di un'azione creativa divina che ha portato Simone a salire in paradiso in un mondo del dove si trova l'idea stessa della bellezza incarnatasi nella figura dell'amata del poeta e dove solo è possibile dare una rappresentazione integra e unitaria una forma vera dice Petrarca altrove di quello che è l'oggetto del desiderio del poeta questo anche di contro alla incapacità o potremmo dire incapacità impossibilità da parte di Petrarca di realizzare un ritratto poetico unitario integro e completo di Laura questo è uno dei motivi che ricorre costantemente della poesia del canzoniere in cui Laura sembra vivere quasi sola per dettagli per frammenti le chiome gli occhi la mano il collo c'è proprio l'impossibilità forse anche la non volontà del poeta di fornire in realtà un'immagine unitare dell'oggetto del desiderio perché questo implicherebbe che cosa implicherebbe anche esprimere l'avvenuta conquista di tale oggetto del desiderio cosa che non può darsi nella poetica sottesa al racconto del canzoniere la duratura stima petrarchesca per il magistero di Simone Martini è ribadita anche nella miniatura a tutta pagina attraverso cui Petrarca chiedendolo a Simone Martini vuole rendere unico il proprio codice dell'opera omnia virgiliana corredata anche dall'esegesi di Servio e infatti tutti i componenti di questo manoscritto trovano una puntuale traduzione visiva in questa pregevole miniatura abbiamo un guerriero un contadino e un pastore e quindi le personificazioni delle tre opere virgiliane peraltro disposte in registri differenti dell'immagine a testimonianza anche di quello che era la gerarchia la teoria medievale degli stili abbiamo la figura di Virgilio ritratto in scusate abbiamo poi la figura di Servio che sposta la cortina e con un dito rende visibile l'immagine dell'auctor di queste tre opere e in questo movimento e nella postura di Servio la resa simbolica della funzione che Servio che il commento di Servio svolge all'interno dell'economia di senso del manoscritto cioè quello appunto di rivelare gli arcana maronis quindi di rivelare ciò che è sotteso i nuclei sapenziali i nuclei allegorici sottesi alla narrazione virgiliana come vedete e questa funzione scusate e questa funzione di Servio trova espressione anche in uno dei tre distici che accompagnano la 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 miniatura due si trovano riprodotti nel centro della tavola un terzo si trovava si trovava in basso ma è stato poi tagliato da una rifilatura del del codice e troviamo quindi in questi tre distici troviamo anche le varie autorialità convocate all'interno dell'immagine e più in generale all'interno del manoscritto Servio Mantua Virgilio ma anche lo stesso Simone la cui azione creatrice vedete viene messa sullo stesso piano quasi in comparazione con l'azione creativa di Virgilio e forse anche implicitamente con quella del possessore di questo codice illustrato cioè lo stesso Petrarca se infatti prendiamo la sesta senile del primo libro successiva ecco degli anni sessanta mentre la miniatura si colloca tra il 1342 e il 1343 ebbene se riprendiamo questa senile che è la stessa di cui abbiamo relativa al ritratto petrarchesco per Pandolfo Malatesta di cui abbiamo parlato prima ecco prima di raccontare in questa senile Petrarca prima di raccontare l'aneddoto relativo al suo ammiratore ci offre un piccolo ma interessante autoritratto di sé che è interessante confrontare proprio con l'immagine di Virgilio ritratta da Simone Martini Petrarca si rappresenta si autorappresenta nella senile come uno studioso e neppure questo piuttosto un abitatore dei boschi un vagabondo solitario avvezzo a emettere non so che in su si strepiti sotto aere i faggi e sommo della presunzione dell'audacia a stringere tra le dita sotto una cervo all'oro un fragile calamo quindi un autoritratto ideale del tutto vicino a quello con cui c'era stato immortalato Virgilio nel codice milanese ora tanto l'illustrazione questa pregevole illustrazione di un'opera letteraria quanto l'evocazione con il sonetto 77 del caso del ritratto di Laura chiamano congiuntamente in causa un ultimo aspetto del rapporto tra Petrarca e le arti figurative ossia l'articolata tradizione di visualizzazione che ha interessato l'intera sua produzione fino al XVI secolo a questo aspetto come avevo promesso all'inizio vorrei dedicare la parte finale del mio intervento mostrandovi alcune testimonianze dei tentativi di visualizzazione dell'opera di Petrarca tanto dell'opera volgare quanto dell'opera latina partendo da quest'ultima ricordo molto corso in avvio la presenza di alcuni manoscritti del De Viris Illustribus qui due esempi appunto del molto molto alti del XIV secolo di fatto realizzati pochi anni dopo la morte di Petrarca e qui l'immagine è l'immagine della gloria mondana o della fama che di fatto rappresentata come una divinità che trasceglie gli individui degni di essere ricordati nel tempo individui illustri degni di essere ricordati nel tempo però la ricezione visiva dell'opera Petrarca al di là appunto di pochi casi relativi al De Viris Illustribus si concentra per il versante latino soprattutto sul De Remedis e per la poesia volgare sui trionfi e sul canzoniere la fortuna illustrativa della raccolta dialogica da cui abbiamo iniziato il nostro percorso si concentra soprattutto nei manoscritti e nelle edizioni realizzate soprattutto nell'Europa settentrionale in Francia Fiandre e Germania e conosce forse il suo massimo esito nell'apparato illustrativo che accompagna il primo volgarizzamento integrale tedesco del De Remedis quello realizzato da Augsburg nel 1532 qui ognuno dei 200 e 60 dialoghi che compongono l'opera conosce un viene introdotto da una vignetta da una xilografia il cui la cui probabile invenzione è dovuta all'umanista tedesco Sebastian Brand potete vedere immagini che hanno anche iconografie canoniche come l'immagine della della ruota di fortuna che campeggia sul frontespizio esplicitare proprio ad anticipare visivamente quello che è il senso dell'intero opera pedrarchesca dove il destino di uomini e soprattutto di sovrani è continuamente mutabile ed è dovuto che cosa all'intervento delle quattro passioni che determinano proprio il continuo volgere della 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 ruota le quattro passioni sono rappresentate dai quattro venti che appunto soffiano dai quattro lati della dell'immagine nel contesto della scrittura volgare pedrarchesca a falle del padrone sono invece i trionfi sia in ragione diciamo del registro ecfrastico che costituisce il registro stilistico predominante del poema visionario del poema visionistico pedrarchesco ma anche perché dell'idea stessa di triunfo abbiamo una iconografia ben attestata già nell'arte romana che appunto proprio spesso dava rappresentazione di quello che era l'esperienza dei trionfi dei generali dei ducci romani manoscritti edizioni a stampa ma anche a freschi dipinti manufatti artistici di varia natura come deschi da parto cassoni arazzi diventano il supporto su cui maggiori artisti fin dagli anni trenta del quattrocento tentano di tradurre visivamente quello che è l'allegorico percorso trionfale petrarchesco e così facendo vanno a definire un vero e proprio modulo espressivo di lì in poi costantemente spesso anche con minime variazioni utilizzato e riprodottono sui più vari supporti vi ho qui riportato il caso di quattrocentesco di Francesco Pesellino che in due divide di fatto la rappresentazione dei sei trionfi petrarcheschi in due tavole però rendendo bene un aspetto qualificante la narrazione petrarchesca ossia la conseguenzialità tra i vari trionfi tra i vari capitoli trionfali una conseguenzialità legata a quella che i critici chiamano la dinamica del superamento che presiede al senso stesso della narrazione trionfale prima si racconta il trionfo d'amore ma il trionfo d'amore viene superato dal trionfo della pudicizia della castità che a sua volta viene messa in crisi dall'avvento della morte che quindi vince la castità ma la morte a sua volta viene vinta una prima volta dalla fama la morte terrena viene vinta dalla fama la fama però non è altro che è appunto qualcosa che viene portato avanti dalla memoria e quindi col tempo con l'azione del tempo è destinata a finire fin tanto che il tempo stesso verrà superato allora quando anche l'agence il protagonista di Petrarcheschi giungerà a sfiorare il contatto con la dimensione dell'eternità nell'ultimo capitolo del racconto Petrarchesco e la struttura dell'immagine di Pesellino che senza soluzione di continuità mostra uno dopo l'altro i vari carri trionfali dà ben conto di questa dialettica continua che gestisce il passaggio da un momento all'altro della narrazione trionfale e questo anche in modo come dire è una soluzione rappresentativa che non troviamo spesso che sicuramente non troviamo nell'illustrazione librario manoscritta dei trionfi dove invece canonicamente troviamo la rappresentazione dei vari cortei trionfali ad apertura di ogni singolo capitolo quindi ad evidenziare con i castica prolessi il nucleo tematico delle varie stazioni ecco ci sono poi pochi ma interessanti casi in cui l'illustrazione non si si limita a rappresentare il corteo trionfale con il carro che celebra la potenza trionfale di turno vediamo a destra il trionfo d'amore e a sinistra il trionfo della morte in pochi e interessanti casi come quello di questo manoscritto francese dell'inizio cinquecento troviamo anche la traduzione visiva anche delle storie dei personaggi mitologici storici e letterari catalogati nei lunghi elenchi in cui Petrarca riassume sinteticamente la vicenda che ha reso appunto tali storie e tali personaggi esemplari rispetto a un determinato contesto trionfale qui siamo nel contesto del trionfo d'amore e troviamo la rappresentazione di due illustri storie d'amore da una parte Piramo e Tisbe la storia ovediana di Piramo e Tisbe dall'altra quella dantesca di Paolo e Francesca e notate qui l'abilità dell'illustratore attraverso il gioco di quinte che si crea grazie ai dettagli architettonici riesce a darci i due momenti esiziali della storia della storia dantesca tanto il momento del due momenti esiziali della storia dantesca ricordati da Francesca quindi il momento dell'innamoramento e il momento poi appunto della scoperta dell'adulterio ultimo aspetto su cui volevo attirare la vostra attenzione è la traduzione visiva del canzoniere che rispetto ai trionfi è diciamo più standardizzata e presenta meno varietà e ciò è legato soprattutto al differente registro poetico di fronte al quale gli illustratori si trovano ad operare se nei trionfi avevamo una narrazione e quindi la descrizione di eventi di episodi di storie passibili di una traduzione più facilmente passibili di una traduzione visiva nel canzoniere al massimo abbiamo sentimenti situazioni interiori pensieri quindi oggetti più facilmente traducibili in immagini ecco che allora gli apparati illustrativi che accompagnano il canzoniere tendono piuttosto a svolgere altre funzioni semantico ermeneutiche ad esempio marcano gli snodi chiave della struttura del macrotesto petrarchesco soprattutto la bipartizione in vita e in morte qui vedete a sinistra l'illustrazione che apre il canzoniere anticipando il primo sonetto e dando di fatto una rappresentazione di quel voi generico a cui con cui si apre l'opera di Petrarca cioè mostrando gli ideali lettori destinatari che si vanno a recare omaggio all'autor oppure l'illustrazione che troviamo in un manoscritto italiano posta prima del fragmentum 264 cioè della canzone io vò pensando quella che apre la seconda sezione quella in morte e che quindi ci va a immortalare appunto la figura di Laura che quasi in forma di fetonte precipita e va a incontrare la morte che poi sarà l'oggetto appunto della sequenza di fragmenta che prenderà avvio da quel punto un'altra funzione a cui viene chiamato l'illustratore è quella di ritrarre l'autore l'autore colto durante l'atto di creazione secondo le varie come dire le principali varianti del genere quindi il poeta raffigurato come un amante ispirato il poeta raffigurato come un umanista ritratto nel suo scrittorio esattamente come l'iconografia anche degli evangelisti dei padri della chiesa oppure la rappresentazione dell'amante malinconico incoronato da Apollo in altri casi le illustrazioni servono ad evidenziare quelli che sono dei riferimenti intertestuali impliciti nel testo ad esempio il sottotesto ovidiano con il mito di Apollo e Daphne che qui reso in modo esplicito con i due protagonisti della storia ovidiana posti ritratti nel registro basso della miniatura che come dire quasi incrociano la loro immagine con quella dei loro protagonisti all'interno del racconto petrarchesco da una parte l'io lirico Petrarca novello Apollo e dall'altra parte Laura novella Daphne ci sono però due testi del canzoniere su cui più assiduamente si come dire insiste ecco l'attività illustrativa visualizzatrice degli illustratori dell'opera e sono uno la canzone delle visioni poi il fragmento un 323 di cui vi offro qui due testimonianze anche qui di illustrazione manoscritta due testimonianze per sé complementari perché in uno nel manoscritto tedesco realizzato da scusate quel manoscritto conservato a Berlino ma in realtà è di fattura francese propone le varie visioni attraverso cui Petrarca nella canzone delinea rappresenta la morte dell'amata in tanti singoli frame in tanti singoli fotogrammi mentre Bartolomeo San Vito nella sua miniatura del 1490 in questo manoscritto conservato a Ginevra ci offre una visione sinottica della canzone e di tutte le singole stazioni visionarie che la compongono l'altro grande testo spesso tradotto in immagine è la canzone della metamorfosi il fragmentum 23 perché questi due testi uno perché innanzitutto si tratta di canzoni si tratta di testi lirici che hanno quindi già un più accentuato sviluppo narrativo due soprattutto nel caso della canzone delle visioni si tratta anche di testi in cui viene tematizzato direttamente il concetto e l'esperienza della visione quali motivi e dinamiche della scrittura petrarchesca se ecco se dobbiamo ricorrere e vado velocemente alla conclusione del mio discorso se avete ancora giusto cinque minuti di pazienza se come vi ho mostrato le modalità di visualizzazione del canzoniere tendono ad essere abbastanza standardizzate e soprattutto rare ecco dei moduli rappresentativi meno standardizzati del canzoniere e anche casi di una sua più estesa rifunzionalizzazione visiva quindi tentativo di illustrare anche testi che appunto non siano la canzone della metamorfosi o la canzone delle visioni si trova in cicli figurativi che testimoniano un incontro tra generiche esperienze di visualizzazione del canzoniere e quel fortunato nodo di parole e di cose che dà forma ai libri di emblemi che di imprese qui in questo contesto si assiste talora all'azione di uno sguardo quello dell'illustratore che cerca di realizzare una rifunzionalizzazione simbolica del testo petrarchesco e facendo così talora suggerisce anche dei punti di vista interpretativi rispetto al testo di Petrarca che non sempre come dire sono stati colti dalla critica tanto dei commentatori antichi di Petrarca quanto anche della critica contemporanea voglio chiudere proprio con un esempio che va in questa direzione e che ci offre un'efficace esemplificazione di potremmo dire di circolarità ermeneutica tra il testo di Petrarca e un'immagine emblematica mi riferisco alle mi riferisco alle pale della Crusca di cui vorrei proporvi un esempio di analisi che chiama in causa la relazione semantica che al loro interno si crea tra la poesia petrarchesca e l'immagine simbolica e per farlo prenderò le mosse da una analisi che di una di queste pale di queste imprese della Crusca che trovano come supporto le pale che si trovano appunto all'interno dell'accademia lettura offerta da Giovanni Pozzi nel suo saggio sull'orlo del visibile parlare e che riguarda l'interpretazione di una di queste imprese quella dell'accademico cruscante Baldassarre Suarez passato col nome accademico di mantenuto l'immagine delle imprese nascono dall'unione di un'immagine e di un motto in questo caso l'immagine è rappresentata da una forma di ricotta nella quale è inzuppata una fetta di pane secco mentre invece il motto è tratto da da un verso petrarchesco colto dalla canzone 125 caver dentro a lui parme un che madonna sempre dipinge e de lei parla a voler poi ritrarla per me non basto e par che io me ne stempre il senso del ritratto simbolico è secondo Giovanni Pozzi intellegibile attraverso una proporzione così come la ricotta non si mantiene se non vi si inzuppa del pane l'individuo a suo ares non è nulla se non viene mantenuto dalla comunità accademica della crusca quindi se non viene se non si integra perfettamente in esso a ridefinire la propria identità da individuo comune a membro di una accademia di eletti alla luce di tale sovrapposizione Pozzi illustra il messaggio della forma simbolica parafrasando in termini analoghi la fonte petrarchesca del motto e come potete vedere dal breve l'acerto che vi ho riportato così si esprime se levo cioè ritraggo il pezzo di pane per me ricotta non basto cioè non mi conservo e par che io me ne stempre cioè mi disfaccia vengo meno dove stempare ha senso analogo nei due testi quindi significa disfacersi ma metaforico nella fonte è proprio nell'impresa mentre ritraggo ha nei due casi senso diverso da una parte togliere dall'altra invece ritrarre nel senso pittorico ora proprio su quest'ultima figura di Equivocazio vorrei concentrare l'attenzione provando a integrare la lettura di Pozzi che sembra procedere solo in una direzione quindi dal testo all'immagine io vorrei vorrei provare anche a procedere nella direzione opposta dall'immagine per ritornare al testo il distico infatti che fa da ponte tra la canzone e l'impresa è parte di un più esteso passaggio in cui Petrarca riprende il motivo provenzale dell'immagine memoriale dell'amata dipinta nel cuore l'accezione quindi artistica del verbo ritrarla risulta del tutto contestuale e infatti trova concordi tutti gli interpreti antichi e contemporanei del canzoniere se però proviamo a rileggere questi versi con negli occhi l'impresa del mantenuto e nelle orecchie la parafrasi di Pozzi forse non è così assurdo chiedersi se anche all'interno del testo di Petrarca non si possa cogliere il predicato nel senso di togliere di levare e in ciò può confortarci anche come dire il contesto più allargato in cui si inserisce questa canzone petrarchesca che avvia un ciclo di canzoni dal forte come dire investimento metaletterario in cui Petrarca affronta il problema dello stile poetico come in senso dello stile come in senso strumentale come funzione come possibile soluzione espressiva come strategia liberatoria al quella profluvio di immagini di Laura che occupa il suo cuore e quindi la sua memoria si affronta qui quindi un nucleo chiave del canzoniere quel paradossale dissidio tra il desiderio di Laura e la volontà di fuggire dal suo dominio che se ci pensate è lo stesso dissidio che abbiamo visto all'inizio da una parte il piacere per l'opera d'arte dall'altra parte l'istanza castrante razionalistica moralistica che deve trovare per forza una funzione all'opera d'arte ecco dissidio quindi tra il desiderio di Laura e fuga dal suo dominio che alimenta anche l'impossibilità di dare forma a quella che Marco Pralorand definiva la meccanica spietata del pensiero d'amore cioè l'incapacità di imbrigliare il desiderio in una argomentazione poetica di dire poesia di fatto sicché parafrasando parafrasando a nostra volta i versi del fragmento un 125 forse potremmo dire il poetamante non riesce a ritrarre cioè ad estirpare a levare via dalla propria memoria l'immagine per quanto ossessiva di Laura perché senza di essa non potrebbe vivere non potrebbe sopravvivere come peraltro dice lo stesso io lirico due fragmento dopo nella canzone 127 impegnato a riflettere su un medesimo snodo concettuale dico che per chi io miri mille cose diverse attento e fiso solo una donna veggio e il suo bel viso poi che la dispietata mia avventura ma dilungato dal maggior mio bene noioso inessorabile superba amor corrimembrar sol mi mantene potremmo dunque chiederci se la selezione impresistica del materiale poetico non vada a evidenziare il primario nucleo concettuale della canzone e anche di un gruppo di fragmenta contigui ad essa ossia la persistenza entro la memoria dell'io lirico della presenza di Laura così come quindi l'accademico cruscante Baldassare Suarez acquista la sua nuova identità supportato dalla comunità accademica soltanto se è appunto una zucca nella quale è inserito una fetta di pane scusate una ricotta nella quale è inserito una fetta di pane allo stesso modo Petrarca riconosce nella tormentosa immagine di Laura che porta nel petto l'elemento identitario che lo mantiene in vita l'inventore dell'impresa di Baldassare Suarez si offre così una doppia rappresentazione simbolica esplicitamente quella un ritratto del neo accademico cruscante implicitamente un ritratto dell'io lirico petrarchesco l'ipotesto petrarchesco costituisce dunque sia la base generativa per l'impulso creativo dell'autore della forma simbolica sia la chiave ermeneutica per l'interpretazione di quest'ultima da parte di ogni lettore l'ipertesto verbovisivo cioè l'impresa a sua volta si configura quindi tanto come un'invenzione autonoma fino a se stessa quanto come una sorta di esegesi una sorta di commento del fragmentum petrarchesco prodotte entrambe da un individuo che nello stesso tempo autore e lettore in questa potenzialità dell'immagine di interpretare il testo che essa va a illustrare o almeno di suggerire nuove domande per una interpretazione di tale testo risiede a mio avviso forse una delle ragioni più rilevanti per studiare le occasioni di dialogo tra parola e immagine tra letteratura e arti visive e spero con gli esempi che vi ho portato di insomma aver dato una minima testimonianza di ciò e vi ringrazio per l'attenzione che mi avete concesso grazie Andrea grazie mille a te veramente poi è stato lungo e che filava tutto è stato bellissimo il finale rispetto all'esordio insomma come si teneva tutto ci sono ci sono domande dicevo qualche ultimo visto che all'ultimo incontro qualche considerazione su anche sul percorso che avete fatto anche se non cronologicamente in successione che si aspetti vari poi insomma Petrarca magari è anche più raro appunto del Furioso in immagine abbiamo parlato tutti gli anni Petrarca ad esempio sempre che ci siate perché vedo tutto in silenzio forse non sono ancora rientrati dalla pausa Francesco d'arte abbiamo detto 45 io mi sono molto entusiasmata appunto alla lettura del dell'impresa del mantenuto e alla rilettura di Petrarca attraverso quel ritrarla che poi appunto forse il gioco era mantenere anche un po' entrambi i sensi visto la contestualizzazione però sicuramente è assolutamente convincente la devo dire la verità che poi poi a riprova della forza dell'immagine nel momento che ho guardato quella e l'ho letto l'ho subito letto in quel modo l'ho subito letto come l'hai letto tu e questo oltre appunto a confermare l'attenzione tua nel leggerlo e riportare questo anche a conferma proprio della potenza dell'immagine di com'è capace di poi sì sì no è vero infatti la cosa curiosa è che poi appunto quando 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 ti accorgi della della plurisemanticità dell'ambiguità allora poi è difficile ritornare a leggere secondo senza diciamo passare attraverso quella lettura visiva ed è curioso ad esempio che ho cercato chiaramente anche di controllare a livello dei commenti no i commenti tardo quattrocenteschi cinquecenteschi e a salire e non viene mai non viene assolutamente mai considerata l'accezione del verbo appunto nel senso di togliere no ma sempre ovviamente quello per rappresentare visione esatto quello visivo quello visivo no invece una cosa curiosa siccome mi è capitato di imbattere di studiare poi anche questa canzone in quello che sono le sue riscritture spirituali no invece nelle esperienze di riscritture in alcune compare l'impiego del verbo ritrarre nel senso di estirpare cioè laddove chiaramente il lettore autore che quel lettore autore che è l'autore della riscrittura si trova quasi nella necessità no di dover intervenire sul testo no per smarcare no la propria la propria interpretazione la propria scrittura da quello che è l'ipotesto allora improvvisamente coglie no la plurisemanticità del termine e la sfrutta invece quando devono commentare sono più molto più conservativi no tranne appunto poi in esperienze di riscrittura in questo caso vera visiva come quella dell'impresa in cui chiaramente funziona proprio soltanto se si mantiene la plurisemanticità del del testo no certo certo sì e vabbè l'altra cosa poi che colpisce per chi appunto lavora su queste cose anche quanto non si direbbe quando non si è abituati dico una cosa molto molto banale che però poi quando ci si allontana per un po' dalle cose di quanto in maniera incredibile le immagini veicolino poi davvero le interpretazioni di un testo anche le più attente le più particolari no perché quando si conosce poco il rapporto tra illustrazione o comunque immagini e testo si ha sempre un'idea di poche possibilità di entrare nella testualità attraverso la rappresentazione per le immagini e secondo me l'esempio che hai fatto tu qui in particolare invece rende proprio conto di questa cosa e secondo me è una cosa incredibile ecco è sempre estremamente affascinante e mi colpisce ecco sì poi c'era un'altra cosa che ti volevo chiedere a proposito invece della rappresentazione di Petrarca dell'io poetico diciamo e volevo capire se tu eri in grado perché io sono molto ignorante rispetto non solo a Petrarca ma per esempio alla rappresentazione l'illustrazione libraria o manoscritta comunque anche di testi che non siano da dopo il 500 sostanzialmente al 500 in poi questa rappresentazione dell'io lirico dell'io poetico all'interno delle illustrazioni è così frequente anche in altri autori laddove chiaramente non si può fare l'esempio di Dante e della Divina Commedia perché in quel caso è veramente personaggio no è frequente anche anche in altri che ne so per esempio invece per Dante il Dante non della commedia per altri autori perché ti ricordi no per dire ormai stiamo chiacchierando gli e te chissà se qualcuno ci ascolta però di come siamo saltati su quando Val Grisi rappresentava Ariosto no sulla nave che rientrava perché era una cosa in quel caso in quel contesto assolutamente inusuale cioè tra tante illustrazioni era il primo ed unico che aveva rappresentato il poeta no chiaramente un poeta molto presente all'interno un io narrante estremamente presente anch'esso in parte personaggio della storia che raccontava però non so se ha spiegato bene la mia domanda no ho capito allora in parte mi viene da dire che comunque sono sono diciamo sono casi differenti nella misura in cui comunque il ruolo di narratore per quanto sia un ruolo estremamente presente e come dire lui chiaramente narratore demiurgo e altro e lì diciamo forse Valgrisi vuol quasi rendere onore a questa funzione no che comunque è una funzione ancora liminare rispetto ad uno statuto di personaggio il problema nel caso di Petrarca o anche di Dante è invece che loro sono anche proprio personaggi cioè io dirico perché ad esempio lasciando stare il discorso della commedia che effettivamente può essere come dire anche un po' al limite appunto però se si pensa invece ai casi illustrazione della vita nuova è già cosa di più simile al discorso del di sì infatti e com'è in questo caso perché lui è lì è proprio personaggio e quindi cambiamo rappresentato cioè si trova spesso anche nelle raffigurazioni quanto si vede con il caso di Petrarca sì oddio è una tradizione illustrativa un po' tarda ecco però quando quando c'è lui interviene appunto nel duplice ruolo ecco viene rappresentato nel duplice ruolo se no se no la figura dell'autore appunto trova 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 spazio soltanto in quelle che sono delle sedi liminali certo di fronte spizio ritratto esatto oppure nei manoscritti nelle pagine iniziali tutti i casi dei manoscritti della 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 commedia sono molto interessanti effettivamente perché si vede proprio come lo stesso personaggio poi venga rappresentato anche diversamente in diverse configurazioni a seconda che si voglia trasmettere l'idea che si sta dando un ritratto dell'autor o si sta dando un ritratto del personaggio però sì ecco credo che lì dipenda molto da quello che è lo statuto all'interno del testo certo andrea c'è un intervento in chat un'osservazione di altri dico anche per Serena che aveva chiesto insomma come come hanno trovato questo porto si si grazie per Per l'interesse, insomma, per l'interesse e sì, scusate, io poi c'era un'ultima slide che nella fretta non ho mostrato, in cui c'era anche un minimo approfondimento bibliografico, i testi fondamentali per affrontare il problema del rapporto tra Petrarca e le arti. Tra queste c'era anche il saggio di Cicuto che è ricordato nella chat, ecco, quindi concordo. D'accordo, allora se non ci sono domande, altri interventi, direi che possiamo concludere. Serena, il microfono è spento. Che me lo spegni? L'avevo spento perché arrivava una forte interferenza, non lo so, forse il cellulare. No, forse i rumori, perché la finestra è aperta. No, no, sì, sì, scusate, volevo solo approfittare per un messaggio privato, in realtà, non privato, per carità. Però direi a Silvia Pagnin che mi aveva scritto una mail e l'ultima volta ho dimenticato di rispondere, Silvia, lo faccio al più presto, perdonami. E niente. Vai, tranquilla, io ti aspetto, voi intanto ho fatto qualcosa, poi ti racconto. Ah, ok, perfetto, perché Silvia sta lavorando su Diario Partigiano, che è una cosa, per cui avevo fatto un paio di lezioni in due corsi, e per quello non era una cosa poi così privata, ecco, quella tra me e Silvia. Ah, sì, anche. Il suo nome, anche prima, e ho pensato che, sì, scusami tanto, mi faccio sentire quanto prima. E, niente, io direi che sì, se nessuno ha niente da chiedere ad Andrea, a Francesco, sono d'accordo che possiamo chiudere e liberarlo e soprattutto ringraziarlo non solo per la splendida lezione, ma anche per, insomma, per averla tenuta in un momento in cui non era esattamente in forma, ma per cui, insomma, apprezziamo anche lo sforzo e la generosità in questo senso. Grazie, grazie a voi per, insomma, per l'attenzione, per l'ospitalità, e sarebbe piaciuto, insomma, se fossimo incontrati dal vivo adesso, quindi recupereremo presto. L'anno prossimo. Va bene, grazie allora, grazie a tutti per vederci. Grazie ancora, Andrea. Ciao, grazie Andrea, ciao Francesco. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti.